Inaugurato finalmente, dopo anche diverse contestazioni, possiamo ricordarlo, il Museo del Gatto a Teramo, che è un unicum, perché credo che sia tra i primi in Italia. Sì, è assolutamente il primo in Italia, ma credo anche perché non si è mai avuto l'opportunità di avere una collezione così ampia, così diversificata, così interessante, come quella che gli arei di Gambacurta hanno voluto destinare all'istituto zopo finattico e poi nel passaggio è stato in convenzione al Comune di Teramo che ha trovato il luogo dove collocare il museo. Però non è tanto importante quello che c'è dentro, o almeno è importante, ma è altrettanto importante che un museo sia l'occasione per eventi, eventi di varia natura, eventi che invitino a considerare il nostro ambiente e quello che ci circonda, che ci faccia crescere culturalmente. E questo lo si può fare anche apparentemente attraverso l'immagine del gatto, che apparentemente appunto è un po' più banale, ma che in realtà darà stimoli fortissimi in senso scientifico per la presenza dell'istituto zopo filattico, in senso didattico perché abbiamo dei laboratori didattici sulla musica dedicata al gatto e la favola e la letteratura e la scrittura creativa e perché esiste una tendenza o un filone psicoterapeutico che vede nel gatto la possibilità di aiutare chi è in difficoltà da un punto di vista psicologico e soprattutto i bambini autistici. Se il museo del gatto è nato, è merito ovviamente dell'immensa collezione della famiglia Gambacurta? Sì, sicuramente, soprattutto da parte di mio fratello e un po' anche mia, insomma, che l'ho aiutato anche in questa ricerca. Lui ha viaggiato molto, molto, perché era single, stava abbastanza bene economicamente, quindi ha viaggiato tantissimo, per cui ha trovato spesso dei pezzi che a noi piacevano moltissimo, a lui piacevano molto e quindi li ha comprati. All'inizio era solo per tenerli in casa, per vederli, per così. Poi, piano piano, è nato in lui questo desiderio, è nato di fare il museo, di farne un museo, però purtroppo non ha fatto in tempo, perché all'improvviso è venuto a mancare, in età abbastanza giovane, aveva appena compiuto 60 anni. Però oggi siamo qui a inaugurare questo museo. Sì, allora per me è stato un punto di forza, ho detto, fosse l'ultima cosa che faccio, questa io la farò. Ho lavorato diversi anni con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico, devo dire, e quindi siamo riusciti a fare questo che adesso voi potete vedere e di cui potete godere, mi auguro.